è tornato point of view su canale europa sport è tornato il punto di vista che ricomincerà essere settimanale sulla serie a e sui suoi sviluppi però insomma facciamo un bel punto della situazione il primo stagionale attraverso le quattro realtà principali del nostro calcio o meglio quello che quelle che sono state le realtà principali la scorsa stagione tramite i loro allenatori tramite quelli che erano anche un po i loro allenatori visto che proprio in queste ore rudy garcia sta venendo sollevato dall'incarico di allenatore della squadra campione d'italia del napoli quindi ragioniamo nell'ottica del essere nel posto giusto al momento giusto se ne parla spesso si usa spesso questo questo giro di parole questo termine per andare a fotografare una determinata situazione in virtù del fatto si possa funzionare o non funzionare funzionare bene funzionare bene il giusto ci sono delle dinamiche che secondo me vanno analizzate per esempio partendo dalle prime due squadre in classifica inter e juventus con i loro due mister agli antipodi per credo calcistico andiamo a vedere proviamo a pensare al momento che stanno venendo e stanno vivendo inter juventus sia proprio nell'immediata attualità sia un po come momento storico come periodo nelle ultime anni e quindi proviamo a immaginare a domandarci partendo in questo momento dalla squadra prima in classifica l'inter simone inzaghi è al posto giusto è arrivato al posto giusto al momento giusto per l'inter se guardiamo la stretta attualità la risposta è sì perché simone inzaghi sta portando l'inter ad avere una serie di risultati importanti non indifferenti dal punto di vista non soltanto del tabellino ma dal punto di vista anche dello sviluppo della squadra della mentalità del gioco espresso in campo questo è un allenatore che ha saputo dare giuste consapevolezze ha saputo plasmare la formazione l'azzurra sua immagine e somiglianza ma è saputo arrivare anche in un momento complicato dopo l'addio di Antonio Conte come giustamente ha sottolineato anche dopo la partita contro il frosinone lo stesso allenatore piacentino con tre mercati estivi consecutivi in cui comunque li sono stati ceduti dei giocatori importanti sono stati dei mercati tra entrate e uscite tra queste eccessioni in positivo o comunque senza mai andare in negativo e quindi si può dire tutto considerato che sia nella stretta attualità che nella storicità negli ultimi tre annate da quando appunto simone zaghi siede sulla panchina nerrazzurra a milano simone zaghi si è stato ed è al posto giusto nel momento giusto e forse di questo i tifosi interisti vuono essere molto molto soddisfatti anche se anche se insomma i critici di in zaghi ci sono e non sono neanche pochi ce ne sono ancora di più però soprattutto sui social se ne parla insomma nella realtà quotidiana di massimiliano allegri massimiliano allegri che un allenatore ormai una certezza un allenatore consolidato da molti più anni di simone in zaghi giocano entrambi con i 3 5 2 hanno in modo di interpretarlo completamente diverso e forse anche per questo motivo appunto l'allenatore livornese viene criticato da larga fetta della tifoseria juventina ma non solo anche degli appassionati di calcio in generale viene proverato un gioco poco spettacolare un gioco un non gioco addirittura eccessivamente difensivo e quindi insomma con il famoso pullman davanti alla porta no questa questa espressione tanto cara a tanti e quindi proprio immaginare e a pensare a riflettere su allegri e al posto giusto al momento giusto in juventus abbiamo detto simone zaghi sì posto giusto momento giusto riuscito a rivitalizzare l'inter dopo antonio conte a tenerla su anche con campagne di mercato campagne acquiste cessioni complicate allegri insomma non è semplice proviamo un attimo ad analizzare insieme parliamo di un allenatore intanto che parte da un presupposto ovvero sia se mi difendo e mi difendo alla perfezione soprattutto in questa stagione e poi le partite bene o male con la qualità che ho davanti le porto a casa discorso di una semplicità clamorosa ma probabilmente è questa la base di partenza appunto per allegri d'altronde se ci pensate come punto di vista se io mi difendo alla perfezione non perdo è proprio matematico sì anche se attacco alla perfezione va bene posso posso segnare ma poi devo fare attenzione alla fase difensiva ma se io organizzo una una squadra una partita una fase del match una stagione su una fase difensiva super solida motivata consapevole con voglia di remare nella stessa direzione da parte di tutti nell'applicazione senza palla è chiaro che insomma ottengo dei risultati e dal punto di vista della determinazione la juventus è davvero impressionante quest'anno e quindi per quanto mi riguarda la risposta è sì allegri è al posto giusto ventus sembra un allenatore fatto per essere la juventus la juventus sembra fatto per fatta per massimiliano allegri al momento giusto al momento giusto secondo me sì lo è ancora adesso è stato criticato allegri per il fatto di non essersi evoluto tantissimo nei due anni di pausa ma ha saputo ridare alla juve un'identità per quanto mi riguarda credo che questa cosa sia estremamente importante credo che la juventus anche senza giocare le coppe europee possa essere davvero pericolosa fino alla fine in campionato per tutte per tutte le altre formazioni e forse per certi aspetti davvero potrà essere se non la favorita potrà essere certamente in grado di giocarsela fino alla fine quindi abbiamo detto simone inzaghi ma semigliano allegri caratteristiche diversissime ma trampi al posto giusto al momento giusto secondo me sì poi non so cosa ne pensate voi cosa ne pensano i tifosi bianconeri quelli nerazzurri e quindi in questo momento la palla è al centro simone inzaghi massimiliano allegri posto giusto momento ora io sposto il pallone della serie a perché andiamo a cambiare punto di vista e valutazione su stefano pioli stefano pioli è al posto giusto nel momento giusto qui può scatenare una conversazione virtuale infinita con voi fra di voi con chiunque si è appassionato di calcio e non solo di milan e di milan ancora di più ma perché la palla adesso è spostata in questa in questa posizione diversa da prima perché per quanto mi riguarda stefano pioli è un grande allenatore ed è nel posto giusto al milan ma nel momento sbagliato nel momento sbagliato perché per come la vedo io stefano pioli ha esaurito e aveva esaurito la squadra rossonera la scorsa stagione e questo che appunto è un mio punto di vista ci fa riflettere però su quanto sia importante il momento in cui le cose succedono nel famoso sliding doors cioè quanto conti il momento storico a livello di incastro a livello di vibrazione a livello di di combinazioni proprio di incastri umani e professionali perché stefano pioli si è trovato catapultato in questa nuova versione di quasi uomo solo al comando soprattutto se parliamo di campo con l'allontanamento di paolo maldini l'allontanamento meglio l'auto allontanamento di zlatan ibrahimovic che comunque sta tornando pare stia tornando vicino alle parti milanello comunque di redbird ma stefano pioli con così tanta responsabilità dopo diversi anni in cui ha fatto grandissime cose al milan e se avessimo fatto questo ragionamento due anni fa tre anni fa ma dall'arrivo di pioli dopo la brutta sconfitta del milan di giampaolo a bergamo in poi pioli era sicuramente non solo l'uomo giusto momento giusto ma forse anche l'uomo della provvidenza per il tipo proprio di mentalità di umiltà e di qualità verticale in tutti i sensi che aveva portato a milanello in tutto l'ambiente milan arrivata la conquista lo scudetto è arrivata la conquista di una semifinale di coppa dei campioni e si partiva con una squadra estremamente giovane con poca esperienza squadra giovane e forse anche con neanche così tanta esperienza che il milan è ancora adesso e forse fino a poco fa per quanto mi riguarda poteva sembrare che lo stesso milan gli stessi giocatori la stessa novità che si viveva a casa milan potesse contagiare lo stesso stefano pioli in un circolo virtuoso che però non si è innescato il circolo che si è innescato un circolo invece vizioso e mi sembra abbastanza evidente che pioli in questo momento non riesca a trasmettere quello che è la propria essenza il proprio credo calcistico le proprie qualità umane e professionali che sono notevoli a tutto l'ambiente milan non soltanto ai giocatori ma anche ai dirigenti anche i tifosi stessi e quindi secondo me è interessante andare a riflettere su questo punto ci sono soprattutto nel calcio italiano certi momenti in cui è giusto cambiare certi momenti in cui il ciclo vitale di un progetto professionale anche anche si è vissuto dei picchi straordinari come insomma il coro pioli zone fire quel che rappresentava una unione pazzesca tra l'ambiente milan e pioli si è venuto un po' a una sorta di conclusione questo perlomeno è il mio punto di vista ma analizzando è semplicemente questo secondo me pioli ha fatto il suo tempo al milan può essere che sia solo per questo motivo qui ma non vuol dire che pioli non sia più capace di allenare o i giocatori del milan non siano capaci di recepire le proprie indicazioni semplicemente nel mondo del calcio soprattutto italiano certi cicli professionali si esauriscono quindi per quanto mi riguarda pioli un uomo giusto nel posto giusto al momento sbagliato e credo che prima nell'ambiente milan ci si renderà conto di questa cosa e meglio sarà per il milan e per pioli stessi chiudiamo a proposito di cambi e cambiamenti che dovrebbero essere fatti ma che in questo caso sono all'ordine del giorno letteralmente quando stiamo registrando ludi garcia sta venendo allontanato da dalla realtà di napoli e quindi spostiamo il pallone per un'ultima volta dalla parte opposta per segnalare l'esempio limite ovvero sia essere nel posto sbagliato al momento sbagliato perché rudy garcia per come interpreto di la situazione fin dall'inizio si era capito che con la napoli in questo momento storico c'entrava poco o nulla e questo non perché garcia non sia un allenatore capace perché secondo me lo è lo ha dimostrato anche nel calcio italiano non tantissimo tempo fa in una roma che faceva un calcio di attacco verticale per conto mio davvero notevole un allenatore capace di comunicare capace di tenere testa all'ambiente napoli a dei laurenti stesso a delle pressioni importanti del dopo spalletti del dopo scudetto del napoli penso che per qualunque allenatore anche se stessimo parlando di un incrocio tra guardiola rigo sacchi eleno herrera il miglior allenatore possibile immaginabile avrebbe comunque fatto fatica arrivare a napoli dopo lo scudetto di luciano spalletti sono spalletti stesso sapeva questa cosa e si è un po auto eliminato dall'allenatore del napoli si è tolto dalle responsabilità dal peso di dover provare a tenere testa a se stesso perché insomma vinceva uno scudetto a napoli è una cosa pazzesca uno degli eventi più incredibili che possono esistere nel calcio italiano per una serie di motivi entusiasmo in primis un entusiasmo talmente forte talmente incredibile da risultare quasi controproducente per chi lo subisce l'entusiasmo diventa anche appunto pressione e diventa un fardello difficile da gestire come lo è stato per rudiger soprattutto e questo ripeto dal mio punto di vista quando provi a non dico distruggere ma dimenticare voltare pagina completamente rispetto a quanto è stato fino a pochi mesi prima quando è stato fatto fino a poco tempo prima che ti ha portato a vincere tu arrivi e volti pagina chiedi ai giocatori ai tifosi all'ambiente all'essenza stessa del calcio napoli che era stato con luciano spalletti di cambiare pagina di giocare in modo diverso di cambiare proprio mentalità in campo con un modo appunto di giocare meno meno avvolgente meno ritmato ma molto 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 più verticale la ricerca di osimen con meno coinvolgimento di lobotka scusate a centrocampo con zilinski utilizzato in modo diverso in mezzo al campo e potremmo andare avanti quando provi a modificare radicalmente quello che era il credo di una realtà che funzionava così alla perfezione allora significa che sei l'uomo giusto può essere ma sei nel posto sbagliato al momento sbagliato e sei tu ad aver creato il momento sbagliato quindi insomma Rudy Garcia un po' come Rafa Benitez dopo Murigno ai tempi dell'Inter e si potrebbero fare tantissimi altri esempi ha forse commesso l'errore di arrivare in una realtà così bella così piena di energia positiva e stravolgere tutto arrivo io cambio tutto e da adesso in poi si fa come dico io le cose andranno molto meglio perché quello che si è fatto prima no no non mi piace adesso si fa si fa così forse non è così che funziona lo sport non è così che funziona il mondo del calcio non è così che funziona in generale anche perché se parliamo di momento giusto forse siamo noi stessi a creare il momento giusto il momento giusto lo generano e lo generiamo noi lo generano i giocatori in campo siamo noi forse a dover pensare e creare il nostro momento giusto è inutile pensare dovrò aspettare il momento giusto e poi farò questa cosa no il momento giusto lo dobbiamo creare noi io non so se sono stato insomma nel posto giusto il momento giusto venivo da una brutta influenza però sono contento di essere nel posto giusto questo è poco ma sicuro momento forse sbagliato perché sono ancora un po' rintronato dalla febbre ma il posto è sicuramente quello giusto perché è canale Europa Sport e voi create il momento giusto seguendo Point of View seguendo tutto con l'Europa Sport mettendo un bel mi piace iscrivendovi al canale il momento giusto sarà la settimana prossima quando ci sentiremo nel nostro prossimo episodio di Point of View ciao